Il gruppo di cittadini volontari per l'ambiente è inarrestabile. Anche questa settimana si sono ritrovati per rimuovere tutta la plastica abbandonata lungo i marciapiedi e le aiuole di Via Natola. Tra il bottino, molta plastica monouso, cartacce, scatoloni e mozziconi di sigaretta. L'aspetto più difficile riguarda i rifiuti che ormai presenti da troppo tempo si sono uniti con il suolo e il terreno, cosa che complica anche la raccolta. Ma lo spirito e la forza dei volontari e volontari della Via della Felicità sono quei valori che non hanno impedito di ridare un aspetto migliore anche a questa parte di Foggia. Il gruppo di cittadini non si ferma e lancia un appello ai fuggiani. Se tutti ci prendiamo cura del nostro ambiente, la nostra città prenderà sicuramente un altro aspetto. Il prossimo intervento si terrà giovedì 1 settembre in piazza libanese a Foggia.